ciao a tutti come state spero tutto bene benvenuti o ben ritornati sul mio canale più precisamente in questo nuovo video oggi video haul in tantissimi avete chiesto vale ma i tuoi video haul strepitosi a prezzi bassissimi dove sono finiti e lo so ragazze scusate ma ho preferito in quest'ultimo periodo fare vlog perché per me fare vlog risulta molto molto più facile comunque oggi video haul allora sono stata da H&M che chi mi segue sempre lo saprà è il mio negozio preferito e sono stata da Kik che è una recente scoperta per me vi faccio vedere quello che ho preso onestamente non mi ricordo neanche più quello che ho comprato credo solo cose per bambini insomma credo per me e mio marito niente ma ormai è così con quattro figli si compra un sacco per loro partiamo nel frattempo mi sembra ovvio si è svegliata Sofia quindi quindi incominciamo proprio allora per la Sofi sì per te ho comprato questo bellissimo completino costava 17,99 20 euro io l'ho pagato 10 euro e 99 è molto molto carino fatto così veramente bellino per questo inverno con i leggings fatti così a fiorellini e rosi poi sempre per la Sofi ho comprato questo completino in velour cenniglia fatto così con i pantaloncini vedete ora più un completino sempre per questo inverno costava 18 euro io l'ho pagato 14 poi questo l'ho comprato per giulio chip e chop questo pigiamino molto molto carino le braghe sono fatte così la fatta così questo costava 15 euro l'ho pagato 8 euro 9 euro 8 euro 99 poi per la Susi ho comprato questo pigiamone bellissimo cioè perché queste cose belle non le fanno anche da adulto io non lo so me lo sarei me lo sarei me lo sarei comprata molto volentieri anche per me bellissimo in pile morbidoso super sofficioso con queste bellissime stelle guardate che bello questo l'ho pagato anche i pantaloni questo pigiamone costava 20 l'ho pagato 12 ok scusate il video ma è così con quattro figli due al mattino sono a scuola fino alle 4 di pomeriggio gli altri due sono qui a casa con me poi ho preso queste calzine bellissime per la Sofia che proprio non ho resistito perché sono troppo 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 belle sono cinque paia sono cinque paia vedete dopo so mai le apro e vi faccio vedere meglio i calzini queste troppo belle non erano in sconto le ho pagate 6 euro sono carinissime e il primo sacchetto è andato vi faccio vedere il secondo sacchetto allora questa roba è roba di patinaggio di Susi che mi ha infilato dentro allora la Susanna si è presa questa canottierina molto carina con la fragolina tutta sbellucicosa questa costava 4 euro io l'ho pagata 2 cioè sì ok sì poi ha preso questo vestitino a pantaloncino vedete fatto così questo costava 15 l'abbiamo pagato 6 ok poi la Susanna è un po' fissata ultimamente con i top mamma sono grande mamma sto diventando grande mamma sono una signorina mi voglio comprare i top ok io chi sono per dire di no a mia figlia la mamma direte voi ma io da ragazzina indossavo sempre i top quindi non ce la faccio a dirgli di no perché io stessa da ragazzina volevo sempre i top cioè bisogna ogni tanto capire secondo me noi genitori che anche noi siamo stati bambini che anche noi siamo stati ragazzini e perché dire di no ai nostri figli quando lo abbiamo fatto anche noi ok per le cose sbagliatissime che non vanno assolutamente fatte ma per dei toppettini per delle cose così non riesco a dire di no ancora di mamma e quindi primo toppettino che non è neanche un toppettino cortissimo è per dire cioè basta un leggings o un jeans a vita alta e non si vede niente l'ombelico dico questa camicetta molto carina floreale questa costava 10 euro l'ho pagata 6,99 poi ho comprato un altro completo che si è staccato il pantalone adesso ve lo faccio vedere questa maglietta di chi è questo personaggio Snoopy non mi ricordo più costava 19,99 il completo e non solo la maglietta l'ho pagato 7,99 i pantaloni abbinati sono questi poi un altro toppettino un altro complettino con i pantaloni semplici gialli in tessuto morbidissimi e la maglietta questa ok c'è scritto team unicorn e al nodino questo toppettino molto carino la sanguisuga si è staccata e lì si dita ciao Safi ciao vi stavo facendo vedere questo vestitino semplicissimo da portare al mare molto molto semplice questo costava 8 euro l'ho pagato 5,99 poi Giulio non c'è stato verso si è voluto comprare questo costume da bagno col dinosauro verde prezzo pieno non era in saldo 9,99 comunque prezzo pieno basso si è innamorato perdutamente di questo costumino e l'ho voluto prendere poi questi pantaloncini denim molto morbido io non amo il denim rigido assolutamente non mi piace lo trovo scomodo duro graffia la pelle scomodo da giocare il pantaloncino costava 12,99 euro l'ho pagato 3,99 e Safi un altro pantaloncino come quello di prima però per Mattia quello di prima era per Giulio 3,99 poi questi pantaloncini in tessuto leggerissimi uno floreale e uno di questo color color mattone erano venduti assieme e costavano costavano 15 euro io li ho pagati 3,99 e basta dai ci butto dentro anche Kik intanto sono solamente 8 minuti o qualcosa neanche vado a prendere la borsa di Kik e vi faccio vedere cosa ho preso da Kik così ne qui che adesso vi faccio vedere allora da Kik ho comprato aspettate che non mi ricordo più questa bellissima magliettina costava 1,99 euro io l'ho pagata 1 euro poi quest'altra magliettina 1 euro poi questi leggings molto molto carini per Susanna questi le ho pagati 4 euro poi questa felpina per Giulio semplicissima questa felpina costava 6 euro e 49 l'ho pagata 3,99 questa felpina in stile top vedete che è corta per Susi questa costava non lo so non c'è più il cartellino l'ho pagata tipo 2,99 euro 3,99 costava tipo 10 7 non mi ricordo poi questa maglietta con l'unicorno per Susi guardate che carina questa costava 2,19 e l'ho pagata 2,19 perché non era in sconto la so che è sempre lì che mi sta guardando un'altra maglietta fatta così molto carina che questa l'ho pagata 2,19 ho comprato questi pantaloni in vellutino per Mattia per il prossimo inverno prossimo autunno costavano 5,49 le ho pagati 2,99 quest'altra maglietta molto carina 2,19 poi ti amore poi ho comprato quest'altra maglietta sempre 2,19 e poi e poi basta finito anche Kik adesso vado a togliere tutte le etichettine dentro fuori e vado a buttare tutto in lavatrice spero che questo video vi sia piaciuto io vi ho fatto vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto in questi ultimi giorni appunto vi avevo detto all'inizio video che era tutto per i bambini e basta mi raccomando iscrivetevi mettete mi piace e commentate sotto perché alla sera amo tantissimo leggere i vostri commenti io vi mando un grandissimo bacione aspettate prendo anche Sofie si qui c'è la Sofie poi ciao Sofie ciao ciao a tutti ciao io e la Sofie vi salutiamo vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi e se volete vedere qualche video in particolare ditemelo pure cercherò di accontentarvi ciao 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 ciao